Creare le basi per consentire dove necessario l'abbattimento rapido e senza ostacoli dei grandi carnivori problematici con strategia omogenea in tutto l'arco alpino. E' la proposta su cui hanno concordato Enzian, i Frei Heitlichen, i tre consiglieri SVP e approvata dall'aula maggioranza nella sessione di gennaio. In merito l'assessore Arnold Schuller ha detto che si stava già lavorando con le altre regioni per consentire i prelievi di animali e che era già possibile intervenire in caso di attacchi all'uomo mentre parte delle opposizioni hanno ravvisato una matrice populista nella proposta. L'aula ha approvato anche la mozione del team CA cofirmata dalla SVP per creare un gruppo di lavoro con rappresentanti di provincia, proprietà edilizia ed inquilini per il sostegno degli affitti tramite un fondo di garanzia per i proprietari, nonché la proposta della City Roller Freiheit che il consiglio si dichiarasse contro il ripristino in qualsiasi forma della leva obbligatoria. Via Libra poi ha le mozioni del Movimento 5 Stelle per il finanziamento di corsi universitari di italiano come lingua straniera o come seconda lingua se offerti come master universitari e per la promozione di comunità energetiche rinnovabili. In quanto all'iniziativa della maggioranza approvata la legge firmata dall'assessore Giuliano Vettorato e dal consigliere del Partito Democratico Sandro Repetto che sposta il termine di rendicontazione per le associazioni che hanno ricevuto contributi provinciali nel 2019 e 2020 al 28 febbraio prossimo considerate le difficoltà subentrate con la pandemia da Covid-19. Via Libra anche a due mozioni della SVP per valutare un IRAP differenziata che favorisca le aziende che attuano misure economico-sociali positive e per l'eventuale partecipazione della mano pubblica alle comunità energetiche locali. Il plenum ha anche approvato la delibera della commissione di convalida a conferma dell'elezione di Marco Galateo subentrato a legislatura in corso e nominato due consiglieri della Corte dei Conti si tratta di Stefano Natale direttore d'ufficio in provincia e Teresa Wiedenhofer segretaria comunale a Chiusa.